Buongiorno e benvenuti anche quest'anno. In sede di Consiglio nazionale quest'anno abbiamo deciso di fare un focus comparativo della Green Economy italiana in Europa e nel mondo. Ci pare maturo il momento di alzare un po' lo sguardo e di guardare un po' fuori dei nostri confini, sia per capire i nostri punti di forza e ovviamente che pure ci sono i nostri punti di debolezza. Abbiamo per primo realizzato un confronto dell'Italia, della Green Economy italiana, con le Green Economy di altri quattro principali economie europee, cioè la Germania, il Regno Unito, la Francia e la Spagna, utilizzando 16 indicatori per otto tematiche strategiche della Green Economy. Sono 16, soprattutto le tematiche strategiche, sono quelle dei rapporti della Green Growth dell'Ocse e sono le emissioni di gas serra, l'intensità energetica, le fonti rinnovabili, il riciclo, la produttività delle risorse nell'ottica ovviamente di circular economy, l'eco-innovazione, l'agricoltura green, il capitale naturale e la mobilità sostenibile. Emissioni di gas serra, 1990-2014, meno 20%, l'Italia è il terzo posto dopo il Regno Unito, meno 34%, Germania meno 28% e ha fatto un po' meno bene dalla media europea che è a meno 24%. Il dato un po' negativo, come è già stato segnalato, è che però nel 2015 l'Italia ha aumentato le emissioni del 3,5% e qui prende la maglia nera un quinto posto e peggio dalla media europea nel 2015. L'intensità energetica, come è noto l'intensità energetica, anche perché l'energia per noi è cara, siamo tradizionalmente abbastanza bravi e siamo con 98,4 TEP ogni milione di euro di PIL, al secondo posto dietro il Regno Unito che ha 95,6% ma meglio della media europea che è addirittura 122%. Però il trend di miglioramento del decennio 2005-2014 del 16% è stato un po' meno buono del resto d'Europa e ci pone al quarto posto dietro il Regno Unito che ha migliorato del 26% della Spagna, della Germania e un po' meno bene anche della media europea. Sulle fonti rinnovabili, come anche qui sono dati noti e più l'insieme che è interessante come valutazione, il 17,1% del consumo interno lordo nel 2014 è l'ultimo dato Eurostat, i dati sono tutti convalidati, istituzionali, diciamo, ufficiali, in genere Eurostat. Ha raggiunto il primo posto fra i 5% ed è meglio della media europea che era del 16%. Nel 2014 però abbiamo avuto una flessione degli investimenti rinnovabili e abbiamo perso posizioni, siamo scesi al quarto posto dopo sia la Germania, la Francia e il Regno Unito e siamo andati anche al di sotto della media europea. Riciclo, produttività delle risorse, Circular Economy. L'Italia col 42% del riciclo non raccolta differenziata, è riciclo, è al terzo posto per il riciclo dei rifiuti urbani, preceduta dalla Germania che dichiara il 64%, ecco, questo è l'unico numero che commento, in genere non lo farò, come sapete la Germania, e ci dirà meglio Simona l'Onorevole Bonafè, sta contestando il metodo di calcolo, sta chiedendo di rinviare il termine o di rivedere il sistema di calcolo, perché utilizza come calcolo del riciclo, diciamo, alcune operazioni che noi non classificheremmo nel nostro, con il metodo che noi utilizziamo come riciclo, quindi è un 64% diciamo discutibile, però è quello ufficiale, io ve lo riporto. Regno Unito 44, media europea 43. Però abbiamo il 76% del riciclo dei rifiuti speciali, ben al di sopra della media europea, che è il 46%, e quindi diciamo che nel riciclo dei rifiuti speciali, il sistema italiano, il manifatturiero italiano, è già molto ben avviato verso una economia circolare. Con 3 euro di pil per ogni chilogrammo di materiali consumati, anche l'intensità dei materiali del pil, siamo abbastanza efficienti, l'Italia ha il secondo posto preceduta dal Regno Unito, che è 3,5 euro di pil, ha un'economia molto più tersiarizzata, la media europea è 2 euro di pil per ogni chilogrammo di materiale consumato, quindi diciamo è notevolmente più efficiente della media europea. Questo ve l'ho appena detto. L'eco-innovazione, ecco, questo l'Italia è il terzo posto dopo la Germania e la Francia, però è interessante l'articolazione delle cinque classi del eco-innovation index scoreboard, l'indice di eco-innovazione europea. L'input dell'eco-innovazione, cioè gli stanziamenti in ricerca e sviluppo in percentuale del pil, quindi il numero di ricercatori, investimenti verdi, siamo al quinto posto, è l'input dell'eco-innovazione, quello che il sistema paese ci mette, che ci fa abbassare. Per l'attività di eco-innovazione, cioè materiale e energia, l'abbiamo appena visto, per unità di output, organizzazioni certificate, risaliamo al terzo. L'output di eco-innovazione, cioè i brevetti, la nostra capacità di produrre innovazione, pubblicazione, siamo al secondo posto dopo la Germania, i risultati ambientali di efficienza delle risorse l'abbiamo visto, siamo al secondo posto dopo la Francia, i risultati socio-economici, cioè le nostre eco-industrie in termini di esportazione, occupazione e fatturati, risaliamo al secondo posto, pari con la Germania e dietro alla Francia. Quindi la disarticolazione dell'eco-innovazione ci fa vedere una green economy molto dinamica. Siamo sotto la media europea solo per l'input, cioè quello che il paese ci mette. Per le altre quattro classi dell'eco-innovazione, siamo al di sopra, siamo meglio della media europea. Questi sono i grafici. L'agricoltura green, sappiamo che l'agricoltura per superficie coltivata biologica, e ovviamente il biologico è il punto forte dell'agricoltura green, siamo al secondo posto dopo la Spagna, ma siamo al primo posto per numero di prodotti agroalimentari certificati per tracciabilità e qualità. Questa certificazione di tipo riconosciuto o di tipo europeo per poter fare i confronti. Quindi l'agricoltura green è sicuramente un punto di forza della green economy italiana. Il capitale naturale, la prima nota dolente, è il consumo di suolo. Lo sapevamo, siamo al quarto posto, ma di poco, seguiti solo dalla Germania, hanno il 7%, loro il 7,2%, e siamo molto peggio della media europea, che è il 4,3%. Per i siti Natura 2000, cioè le aree naturali protette, non solo i parchi, quelli di tipo europeo, cioè SIC, siti di importanza comunitaria e ZPS, l'Italia è il terzo posto dopo la Spagna e la Francia. La mobilità sostenibile, vabbè, il punto dolente lo sappiamo, il traffico merci su strada, ci mette al terzo posto dopo la Germania e la Francia, peggio della media UE. Però per le emissioni pro capite nel settore dei trasporti siamo al primo posto, migliori anche della media europea, cioè abbiamo auto a più basse emissioni, queste fanno il grosso dei numeri, e quindi questo ci fa andare come media pro capite al primo posto sempre fra le cinque grandi economie europee. Questo è il confronto fra le cinque principali economie europee. Come vedete, il primo posto è il più chiaro, il secondo posto è questo marroncino e via più scuro. Ovviamente il risultato finale, non vi spiego questa tabella complicatissima, ma è solo per confondervi le idee che ve la faccio vedere, il risultato finale però è questo. Il medagliere dell'Italia ci dà quattro primi posti, tre secondi posti, cinque terzi posti, tre quarti posti, un quinto posto. Il punteggio come viene fatto? Dando cento a chi ha sedici primi posti, zero a chi ha sedici quinti posti, e quindi 75 secondi, 50 terzi, 25. Quindi un primo posto vale un sedicesimo di cento. Sommando il punteggio del medagliere, avevamo pensato al modello del Giro d'Italia, ma poi era più complicato fissare le tappe, questo è più chiaro, ma il risultato non cambia, perché abbiamo un medagliere migliore delle altre quattro economie europee. In particolare abbiamo un punteggio di 59,4, seguiti dalla Germania 53,1, dal Regno Unito a 50, Francia e Spagna, a pari merito 48,4. Ma anche il confronto, l'applauso alla Green Economy italiana ovviamente, ma anche il confronto con la media europea, anche questa è interessante, per nove indicatori su sedici, l'Italia è superiore, è una performa migliore della media europea, per tre indicatori è in media con la media europea, e per quattro indicatori, che vi ho detto, quindi esistono anche i punti negativi, abbiamo performance peggiori della media europea. Quindi direi che da questo quadro possiamo sicuramente affermare che la Green Economy italiana, nelle sue tematiche strategiche, è un'eccellenza d'Europa. È sicuramente un'eccellenza d'Europa. Si può misurare in maniera competitiva con le altre principali economie europee. Grazie a un lavoro di Dual Citizen abbiamo allargato questa comparazione della Green Economy italiana nel mondo con questo lavoro di Dual Citizen e di Jeremy Tamanini, che è presente e che ringrazio per questa preziosa collaborazione, e che ha comparato 80 paesi con indicatori diversi, perché ovviamente la nostra comparazione con i cinque paesi europei è più ricca di dati, perché noi abbiamo dati europei disponibili. Non puoi utilizzare gli stessi dati per fare una comparazione di 80 paesi, in realtà molto diverse, sistemi statistici molto differenti, e quindi loro sono riusciti a fare comunque un lavoro egregio usando quattro dimensioni di comparazione. Per la leadership nazionale del cambiamento climatico e per i progressi nel cambiamento climatico, nell'efficienza energetica di alcuni settori, trasporti, energia edilizia, mercato e investimenti delle aziende nei settori green dell'economia, ambiente attraverso le performance della qualità dell'aria, dell'agricoltura, della biodiversità, dell'acqua, della pesca e delle foreste. In queste quattro dimensioni hanno valutato le performance, con una serie di indicatori quantitativi e anche qualitativi alcuni, e la percezione. Abbiamo posto l'attenzione in particolare sulla percezione. Cosa vuol dire la percezione? Vuol dire come la green economy, in queste quattro dimensioni, è percepita negli altri paesi attraverso il parere di un numero di esperti rappresentativo e qualificato che ha una condizione, non deve far parte dei governi, perché altrimenti l'oste dice sempre che il vino suo tende a dire che il vino suo è buono, quindi non fa parte dei governi, e sono ripartiti per ciascuno delle dimensioni, perché sono effettivamente esperti. Per noi è importante sapere come si colloca nella performance della green economy italiana, ma anche come è percepita all'estero la green economy italiana, qual è la reputazione della green economy italiana sui mercati esteri e nei paesi, attraverso la valutazione di esperti, cioè di gente che ha a che fare con queste problematiche che noi stiamo affrontando. Bene, la posizione nella leadership e cambiamento climatico, il posizionamento è sulla percezione molto bassa, 68 su 80, nella performance 32 su 80. Qui già vediamo, vi risparmio il miglioramento, il peggioramento, se no diventa molto complicata l'esposizione. Notiamo già una prima discrepanza fra la percezione, la performance anche sulla leadership e sul cambiamento climatico non è eccezionale, perché al 32esimo posto su 80 nel mondo non è una posizione eccezionale, ma la percezione ci fa cadere al 68esimo posto. Per quanto riguarda la dimensione e l'efficienza dei settori, del sempre Green Global, Green Economy Index, la percezione ci porta a 20 su 80, invece la performance qui è 11, è molto buona la performance 11 su 80, ma la percezione è sempre molto più negativa. Dimensione, mercato e investimenti. Qui in effetti ci aspettavamo una performance non brillante, infatti è fare le performance peggiori, 41 e la percezione è 40, più o meno è la stessa. Dimensione ambiente, l'ambiente siamo 21 su 80, ma siamo percepiti 34, alla 34esima posizione su 80. C'è un problema che appunto pongo alla vostra attenzione, che l'Italia nella Green Economy, con quegli indicatori molto complessi, sarebbe il quindicesimo posto per le performance, ma crolla al 29esimo nella percezione internazionale. Ma non è solo questo il punto di comparazione, che andiamo a ripescare i cinque paesi che abbiamo valutato adesso, e vediamo che la Germania e il Regno Unito hanno la Germania lievemente superiore la percezione della performance. Il Regno Unito è decisamente superiore, la Francia ha più o meno percezione e performance allo stesso livello come la Spagna. L'Italia è l'unico paese fra i cinque che ha una percezione della sua Green Economy internazionale decisamente peggiore delle sue performance. Questo è sicuramente, lasciando stare i valori assoluti, è la differenza relativa, il dato più importante, sui valori assoluti, gli indicatori possono cambiare, ma è talmente netto, è univoca questa differenza, che sicuramente segnala un problema rilevante. Vediamo lì un attimo in comparazione queste differenze di percezione della Green Economy italiana sui mercati internazionali. Leadership del cambiamento climatico 68 su 80 è quella dell'Italia, la Germania è primo su 80. Abbiamo visto che le performance dal punto di vista climatico della Germania sono un po' migliori, ma non sono certo di questa distanza. La Francia 3 su 80, ovviamente risente di una buona gestione che ha fatto dell'accordo di Parigi, ritengo questo buon, ottimo posizionamento. Il Regno Unito 11 su 80, addirittura la Spagna ha una percezione sulla leadership del cambiamento climatico migliore di quella dell'Italia. Mercato e investimenti green, l'Italia raggiunge 40 su 80, la Germania 1 su 80, il Regno Unito 3 su 80, la Francia 15 su 80, la Spagna 19 su 80. Efficienza energetica di alcuni settori, l'Italia qui è un po' meglio, il posizionamento dalla percezione della Germania è 1 su 80, è il primo posto. Abbiamo visto invece che il riciclo dei rifiuti speciali e l'efficienza del contenuto dei materiali per unità di pila è migliore quello dell'Italia rispetto alla Germania. Ma della Francia 14 su 80, Regno Unito 8 su 80, della Spagna 19 su 80. L'ambiente 38 su 80, la Germania 23, vi risparmio anche gli altri, sono avanti. Le ragioni, e qui è una riflessione che dobbiamo proporre al sistema paese, qui avviamo questa discussione, penso che sia una novità importante che portiamo alla riflessione degli stati generali di quest'anno. È chiaro che non è che la percezione perché gli altri pensano male di noi, qualcosa c'è. Cos'è che c'è? è che ci sono alcuni fatti negativi in Italia. Mi raccontavano che alcuni ospiti, non ricordo se cinesi o giapponesi, pensavano che la terra dei fuochi fosse l'Italia. L'Italia è la terra dei fuochi. Sulla stampa internazionale si fa presto. Oppure i rifiuti in alcune città. E voglio dire che abbiamo due terzi dell'Italia vere eccellenze. Ma si parla dei rifiuti per strada in quella certa città, peggio se è la capitale. Questi fatti, alcuni fatti negativi, hanno una vasta eco internazionale. Il sistema paese a livello istituzionale, dei media in particolare, questo nella ricerca di dual citizens si mette in rilievo molto bene, non comunica la green economy italiana come eccellenza. diciamo che se noi stessi non siamo convinti che la green economy è un'eccellenza, è un po' difficile che lo chiediamo agli altri che siano convinti loro. Se noi non comunichiamo questa convinzione, infatti, quando sentite parlare quali sono le eccellenze italiane, la moda, la cucina, poi non so che altro ci mettono, ma la green economy, invece, la green economy è un'eccellenza. in molti dei suoi settori strategici. E poi, c'è un dato strutturale, anche se fornisce buone performance, è fatta in buona parte da piccole e medie imprese, e ha una scarsa capacità di fare squadra. Noi, con il sistema stati generali, cerchiamo di fare squadra, di promuovere questo fare squadra della green economy, però all'estero si sente questa squadra debole della green economy italiana sui mercati esteri e nella comunicazione internazionale. Quindi, cosa bisognerebbe fare per recuperare, risolvere alcuni gravi ritardi, cioè queste criticità non bisogna considerarle solo i problemi locali, sono problemi che hanno delle ripercussioni per l'immagine del sistema paese e vanno, possono essere risolti, vanno risolti. Rafforzare la comunicazione verso l'istituzione e i media sull'eccellenza della green economy e i suoi potenziali di sviluppo, per migliorare la reputazione sui mercati non bastano singole buone imprese green, questo è un po' la morale, serve che il paese e la sua classe dirigente siano più consapevoli e più convinti della direzione green da prendere. Questo è il punto, fare squadra come paese per la green economy. Alcuni indicatori della green economy internazionale sarò ben molto veloce, le emissioni di gas serra si è fermata e continuano a crescere le rinnovabili ma restano ancora alti gli incentivi ai fossili. L'accordo di Parigi è anche il risultato di un trend mondiale che sta cambiando, oltre che essere una premessa importante per rafforzare questa svolta in direzione green. Gli investimenti nelle fonti rinnovabili dopo un po' di flessione che hanno avuto fino al 2013 stanno riprendendo in maniera molto forte come vedete. Dopo la COP21 le previsioni sono convergenti anche nell'analisi dei piani nazionali una ripresa delle rinnovabili. Ci sono novità anche nel settore dei trasporti che è responsabile di un terzo delle emissioni e gran parte dell'inquinamento dell'aria nella città e le auto sono tante anche se cominciano a diminuire le auto pro capite per uso individuale e aumentano in maniera promettente quelle ibride ed elettriche anche se a quote ancora piccole. È interessante anche la richiesta del Global Business Index per misurare i progressi degli investimenti del capitale finanziario di una transizione green e questo del disinvestimento nei fossili in poco tempo dal 2014 al 2015 sia all'ammontare i miliardi di dollari sia il numero di istituzioni che hanno fatto questi disinvestimenti c'è una crescita veramente esponenziale da 50 a 2.600 miliardi da 837 a 2.476 c'è veramente una crescita esponenziale del disinvestimento diciamo l'iniziativa era promossa dal 2011 anche i green bond cioè la finanza green in particolare legata al cambiamento climatico cresce anch'essa in percentuali molto importanti una breve panoramica delle proposte di policy approvate dal Consiglio Nazionale della Green Economy che sono il frutto del lavoro di 10 gruppi di lavoro durante l'anno partecipati da tutti gli stakeholder interessati dei vari settori e dei quali vi do una sintetica rappresentazione il primo punto è attuare l'accordo dei Parigi ovviamente la ratifica dall'accordo e anche l'averlo raggiunto segna un contributo importante anche dell'Italia e del suo governo e la ratifica del Parlamento ora però serve la strategia energetica nazionale aggiornata in attuazione serve anche un fondo nazionale per questa transizione energetica che potrebbe essere alimentato da una parte dalla rialocazione dei sussidi dannosi per l'ambiente e da una carbon tax che potrebbe integrare l'ETS riformato associato a una border tax cioè una tassa sull'importazione non soggetta al medesimo trattamento attenzione che lo sforzo attuativo dall'accordo di Parigi non è uno sforzo ordinario è un grosso salto che si chiede di taglio delle emissioni quindi servono anche nuove misure coraggiose le rinnovabili elettriche basta aver presente che il 2050 che è fra 30 anni è qui vicino bisogna raggiungere la neutralità carbonica cioè le emissioni devono essere uguali agli assorbimenti a partire da è un cambiamento radicale in pochi decenni dovranno arrivare le rinnovabili elettriche a coprire i due terzi della produzione al 2030 servono biocarburanti agrobioenergie sostenibili miglioramento del riciclo dei rifiuti e delle biomasse e avviare la filiera del biometano molto promettente per il risparmio energetico gli edifici va stabilizzato migliorato l'ecobonus già c'è un buon miglioramento introdotto nella legge di stabilità l'ecoprestito per rinforzare l'intervento se ne parla c'è qualche apertura ma ancora il passo importante non c'è per la riqualificazione e la sicurezza ecco molto importante può essere il programma Casa Italia anzi è molto importante che mette insieme sicurezza antisismica e riqualificazione energetica segna una svolta bisogna attuarlo l'impegno dell'Italia per l'agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile c'è l'aggiornamento triennale della strategia nazionale dello sviluppo sostenibile su proposta del Ministero dell'Ambiente che bisogna portare a termine gli obiettivi dei target dell'agenda 2030 e della strategia internazionale nazionale vanno integrati e bisogna raccogliere e promuovere le buone pratiche che in Italia non mancano e sono poco conosciute e potrebbero essere estese e rafforzate quest'anno abbiamo posto grande attenzione e l'hanno fatto i gruppi di lavoro sulle politiche finanziarie e fiscali in direzione green servono politiche pubbliche ed indirizzo stabili per incentivare gli operatori finanziari verso l'integrazione di fattori ambientali nelle scelte di investimento sottolineo tre volte la stabilità di queste scelte cioè scelte di medio e lungo termine sviluppo dei green bond come sta avvenendo su scala internazionale il potenziale potrebbe essere per rendere disponibili investimenti nella green economy la valutazione monetaria dei benefici e dei costi esterni ambientali dei progetti di investimenti pubblici e privati è prevista questa valutazione bisogna che sia effettivamente applicata è prevista dal collegato cosiddetto collegato ambientale necessari strumenti di riforma fiscale ecologica per indirizzare i mercati non aumentando il carico fiscale ma promuovendo l'occupazione e servono anche progressi sistemi di misurazione dei progressi anche per dare maggiore consapevolezza la contabilità non finanziaria per indirizzare le imprese a valorizzare il capitale naturale i servizi ecosistemici c'è stato il recepimento della direttiva 2014 95 UE noi auspichiamo una sua estensione a un allargamento non solo le grandi imprese con più di 500 dipendenti sia pure in forma volontaria e semplificata anche le piccole e medie imprese così come la possibilità anche per i comuni le regioni e lo Stato di utilizzare queste forme di rendicontazione occorre in generale migliorare la consapevolezza delle imprese sull'importanza del capitale naturale ma questo serve che il mercato riconosca l'importanza di tale capitale con adeguati sistemi di incentivi le start up green è un mondo molto dinamico faremo la premiazione delle start up anche in questa edizione degli stati generali l'Italia è molto vivace però lamentano procedure troppo complicate sono complicate in genere per le imprese però una start up che sta appena partendo rischia di soffocare ancora prima di nascere vanno velocizzate bisogna migliorare la capacità di acquisizione di garanzie e facilitare l'accesso a filiere integrate e a rete di imprese l'accesso ai finanziamenti è solito punto debole sarebbe utile finalmente un osservatore delle start up green per favorire lo sviluppo degli acceleratori dedicati l'impegno delle università che già c'è e degli enti di ricerca il marchio med green in italy dell'agroalimentare abbiamo visto che l'agroalimentare italiana è un punto di forza della green economy ha un biologico molto forte e ha filiere certificate di grande qualità cosa può portare in più il med green in italy è assicurare la correttezza e la trasparenza sull'origine dei prodotti e degli ingredienti il controllo di filiera nonché riconosce il rilievo della diversità moltiplicità e qualità dei territori oltre ovviamente il livello di qualità la sostenibilità ecologica diciamo quello già fatto che già c'è va molto bene ma questi valori aggiunti potrebbero essere utili da valorizzare in chiave di green economy ovviamente accompagnati da un efficace sistema di controllo e di certificazione la rapida definizione del recepimento del pacchetto delle direttive sulla circolare economy c'è Simona Bonafè ce ne parlerà a lei dico quindi solo tre parole dobbiamo stare attenti agli strumenti attuativi di queste nuove direttive da implementare a livello nazionale non basta recepire le direttive bisogna poi che queste si attuino benissimo la raccolta differenziata l'obiettivo è il riciclo quindi fare di più per la qualità bisogna rafforzare gli acquisti verdi dare lo sbocco delle pubbliche amministrazioni migliorare la riciclabilità dei prodotti e recuperare i ritardi in quelle regioni meridionali sono 5 noi non abbiamo più un ritardo nel mezzogiorno abbiamo 11 province del mezzogiorno che superano il 50% di raccolta differenziata purtroppo ne abbiamo 22 che stanno sotto il 35 anzi più vicino al 20 quindi quella è una palla al piede che va recuperata e bisogna fare la raccolta separata della frazione umida ovunque deve essere obbligatoria questa raccolta separata in alcune zone del paese va migliorata la disponibilità di infrastrutture per il riciclo e va semplificata e agevolata la procedura per l'avvio alle attività di riciclo il Green Public Procurement c'è questa nuova norma inserita nuove norme inserita nel codice degli appalti bisogna che non resti sulla carta va fatto un sistema di monitoraggio servono iniziative di formazione dell'amministrazione pubblica e delle stazioni appaltanti bisogna diffondere linee guida e definizioni di metodologie per il calcolo dei costi del ciclo di vita e delle esternalità se non nella comparazione le produzioni Green rischiano di perdere la comparazione di prezzo se non c'è il ciclo di vita e la valutazione dell'esternalità e bisogna lanciare corretti segnali di prezzo al mercato e quindi servono misure di fiscalità ecologica i servizi idrici all'adattamento climatico è un tema ormai ineludibile l'Italia è uno dei paesi fra i più esposti al cambiamento climatico la variazione di temperatura media globale è intorno al grado l'ISPRA ha calcolato che l'Italia invece ha già avuto una variazione media di circa un grado e mezzo questo vi dà l'idea e poi il mare mediterraneo chiuso insomma è un paese molto vulnerabile il tema delle risorse idriche è un tema urgente la gestione va resa più efficiente bisogna incentivare il riciclo dell'acqua e bisogna anche qui utilizzare le opportunità offerte dal Green Public Procurement occorre rafforzare gli strumenti per il risparmio idrico e la riduzione delle perdite di rete di distribuzione che anche queste sono ancora un grande problema misure per la mobilità sostenibile abbiamo visto che il tema della mobilità è un tema strategico per le emissioni di gas sera e anche per la vivibilità efficienza qualità delle città saremo per sostenere come già hanno fatto Olanda e Norvegia il divieto di matricolazione a livello europeo dal 2030 di automobili con alimentazione diesel o benzina fossile cioè non i biodiesel potranno essere alimentati elettricità ibrido biocarburante e gas guardate che la prospettiva delle emissioni nette zero richiede ripeto e insisto dei cambiamenti drastici non è che potremo continuare con aggiustamenti e quindi se noi diciamo dal 2030 le auto a fossili non circolano più si cambiano le tecnologie si cambia il mercato ovviamente quelle che ci sono continueranno ma si mette in produzione in programmazione un salto tecnologico importantissimo della mobilità nelle città serve ovviamente un nuovo piano nazionale della mobilità soprattutto per la mobilità urbana sostenibile che dovrà raggiungere nel 2030 almeno il 30% delle risorse nazionali è molto importante la sharing mobility cioè il mezzo condiviso che può contribuire significativamente a ridurre l'uso dell'auto privata nelle città quindi come avete visto il piano delle policy è molto concreto quest'anno alcune cose si possono fare comunque altre richiedono misure dal governo e del Parlamento e nostra cura promuovere questi contenuti innanzitutto con i ministeri che coorganizzano gli stati generali come momento degli stakeholders della green economy un piccolo commento il piano nazionale industria 4.0 che penso che dato il tema non poteva mancare come sapete il piano prevede tre tipi di agevolazione iperammortamenti crediti di imposta per la ricerca e finanza e a supporto e per le start up vi risparmio i dettagli per ragioni di tempo il governo attende o dichiara questo è il ministero dello sviluppo economico una serie di benefici flessibilità velocità del prototipo alla produzione produttività attraverso minori tempi di setup migliore qualità e minori scarti maggiore competitività e contiene il piano industria 4.0 indirizzi di innovazione positivi ovviamente ma che ritengo insufficienti perché mancano scelte prioritarie e strategiche per io le chiamo nuove possibilità di sviluppo quelle per la green economy non che non vi siano interventi utilizzabili a favore della green economy e per questo il giudizio è positivo positivo ma insufficiente perché per esempio ci sono misure per verifiche del processo produttivo del prodotto per gli impatti ambientali e le formazioni sul ciclo di vita l'efficienza energetica e lo stoccaggio di energia così importante nel sistema delle rinnovabili per il recupero di scarti e prodotti a fine vita per il trattamento e il recupero di acque ma cos'è che non è sufficiente non basta aumentare la produttività e la competitività di tutto l'esistente con l'innovazione tecnologica e informatica 4.0 sarebbe la quarta rivoluzione industriale basata sulla nuova evoluzione dei sistemi tecnologici e informatici ma sono necessarie scelte in grado di alimentare nuove produzioni di beni e di servizi noi abbiamo bisogno di nuove opportunità di sviluppo quindi bisogna allargare nuove produzioni di beni e di servizi e questi possono attivare nuovi investimenti e nuova occupazione certo devono essere fatti con le migliori tecnologie esistenti con l'innovazione tecnologica ma bisogna allargare le possibilità di sviluppo e come abbiamo visto nelle pollici queste nuove possibilità di sviluppo vengono dalla green economy se manca questa scelta l'innovazione va fatta per amor del cielo ma non è sufficiente ridare fiato all'economia non solo in chiave green ma all'economia del mondo globalizzato di oggi concludo con questa slide anche perché domani poi faremo un approfondimento sulle città driver della green economy e in realtà l'idea poi la discuteremo in consiglio nazionale della green economy è quella di fare un focus un po' più attento sulle città come driver della green economy quindi domani si avvia questa discussione perché l'Italia dispone di un patrimonio di città fa i più importanti al mondo le nostre città tuttavia stanno perdendo terreno nella reputazione green internazionale e qui riprendo il lavoro dell'amico Tamanini dual citizen pensate che su un'analisi del global green economy index di 50 grandi città esaminate nel mondo Roma precipita al 45esimo posto è un lusso che non ci possiamo più permettere bisogna che noi facciamo un focus su come sviluppare la green economy nelle nostre città domani mattina ci sarà la sessione tematica su questo tema ma il prossimo anno stiamo già lavorando il gruppo di lavoro è già in atto lanceremo un manifesto per lo sviluppo della green economy nelle nostre città grazie per la vostra attenzione